Gli amici di Moise, chi è Moise? Moise è da un lato il nome un po' riassume un pochettino tutti gli ebrei, ma Moise è una persona fisica vera e propria, si chiama Mosè Schechter, è un rumeno che viene praticamente a studiare qui a Palermo, si iscrive nella facoltà di medicina, diventa medico, poi si sposa con una ragazza palermitana e avrà due bambini prima della guerra e due dopo la guerra. Moise Schechter è un uomo di grossissima cultura, è una cultura incredibile, pensate che lo chiamavano pure nelle università, lo chiamavano nei circoli letterari a tenere conferenze, a tenere cicli di lezione e diventa un po' il punto di riferimento della piccola comunità ebraica palermitana, gli ebrei hanno tutta una serie di tradizioni, gli ebrei hanno come parte integrante del loro cuore tutta una serie di valori e poi sotto certi profili si muovono assieme e hanno momenti di collettività, momenti di collegialità, momenti in cui stanno assieme.